cari amici cari amici tanti saluti da Serafino Massoni ecco per voi un altro video cari amici per la vostra felicità è le donne in patriarcato beh vedete bene vedete bene questo libro cari questo è un romanzo storico mitologico che voi conoscete bene perché questo romanzo storico mitologico e sta alla base di questa mia piccola tv pubblica la stirpe del serpente il passaggio dal patriarcato al patriarcato francesco aliberti editore cari amici francesco aliberti editore uno dei proprietari del giornale il fatto quotidiano di cui è direttore padellaro e di cui uno dei vice direttori è marco travaglio e non c'è mica tanto da scherzare con il fatto quotidiano d'accordo eccolo qua tutto per voi e allora vediamo un po qual è la situazione delle donne in patriarcato ma in quanti video in quanti video ve ne ho parlato cari amici in quanti video c'è un video particolare intitolato pater familias in roma antica dove dimostro che nella roma antica il pater familias aveva tanti e tali poteri per cui poteva andare al mercato e vendere i figli e la moglie al mercato poi magari si faceva una bella biga con tanti cavalli alla moglie tra l'altro poteva anche essere lapidata se ricorrevano certe circostanze poteva venire lapidata certo sempre meglio essere venduta al mercato che non essere lapidata e dunque la donna in patriarcato è una donna imprigionata prima è imprigionata nella famiglia di nascita dal pater familias di nascita poi passa sotto la prigione del marito si forma una famiglia e la moglie è imprigionata dentro la prigione del matrimonio monocamico patriarcale dove comanda come guardiano come carceriere il pater familias e nei confronti delle donne in patriarcato che sono state scoperte tutte hanno fatto tutte le scoperte è stato scoperto per esempio è stata scoperta la infibulazione no è stata scoperta la clitoridectomia c'è l'asportazione del della clitoride una mutilazione irreversibile poi ci sono i vestimenti burka poi durante il matrimonio casomai la moglie tina andasse con un altro uomo e c'è la lapidazione la lapidazione c'è ancora cari e sapete nelle zone tribali del nostro paese come la clitoridectomia c'era sino all'altro ieri persino nel vicino egitto è andata emma bonino ha soggiornato in egitto al cairo per alcuni anni ha imparato la lingua araba poi assieme assieme diciamo così alle organizzazioni più progressiste dell'egitto ha fatto in modo che il parlamento d'egitto pochi anni fa e proibisse la clitoridectomia pensate fino a pochi anni fa in egitto c'era la clitoridectomia e l'egitto non è lontano e ce l'abbiamo lì lì vicino ma la clitoridectomia c'è ancora cari amici c'è ancora capito allora siccome le donne in patriarcado sono trattate come delle schiavi e lo schiavo fa di tutto per ribellarsi al suo padrone e il metodo migliore per ribellarsi al padrone qual è siccome il padrone ci tiene tanto che la donna non vada con altri uomini non accolga nel suo grembo lo sperma di altri uomini la cosa più bella impatriarcado per la moglie è quello di mettere le corna al marito quando una donna ha messo le corna al marito ha realizzato il suo sogno e per cui io qua c'ho una documentazione sterminata sulla faccenda il mio archivio personale cari amici e a qualcuno non piace che io abbia questo archivio e vabbè peggio per lui questo questo sono cose poi tra l'altro che non le ho scritte io li scrivono i giornali sono a tanti da fastidio che che io e le metta qua in visione e sul web questo per esempio è il coro della sera di martedì 29 novembre 2005 eccolo qua il mio archivio in crisi centro di player per le donne dna svela migliaia di false paternità noi che siamo nella nel 2005 cioè era già stato inventato il test per stabilire la paternità va bene c'è scritto degli uomini che hanno fatto il test in media uno su sei è risultato non essere il padre del bimbo cioè un pa un bambino su sei dieci bambini su 60 cento bambini su 600 non sono figli del papà anagrafico ma sono figli del papà spermatico ciò che è un altro a santo cielo santo cielo poi qua ci abbiamo il professor bruno dalla piccola bruno dalla piccola è un ginecologo italiano un professor bruno dalla piccola vedete cari non ci sono trucchi e non ci sono inganni il 10 per cento dei bambini italiani non è figlio del papà presunto cioè il 10 per cento dei bambini italiani ha un papà anagrafico e poi ha un papà spermatico perché la madre la madre ha fatto bene a mettere le corda al marito d'accordo e se tu uno lo controlli lo tieni il prigioniero fa di tutto per scappare e fanno bene fanno ma fanno bene dio come fanno bene andare a prendere lo sperma dei loro amanti quanto fanno bene le donne in patriarcato ecco qua e mica l'ho scritta io queste cose a milano sei donne su dieci tradiscono il padre fanno bene ma secondo me non sono sei donne su 10 a tradire il padre sono 11 donne su 10 cari 11 donne su 10 ma insomma fanno bene fanno dio come fanno bene e padre famiglia sei donne su 10 dicono sia il tradimento ma quale sei donne sei donne su 10 saranno 11 donne su 10 cari amici e vabbè potremmo continuare così poi ci sono anche i miei amici che ci tengono tanto a potenziare questo mio archivio per esempio qua l'amico mi ha detto quello devo aggiornare l'archivio e per cui mi ha mandato il sito di un social network per chi vuole tradire per chi vuole tradire capito capito ma cari amici cari amici ah su questo ci ho fatto un video su questo qua eh vedete questa vignetta lui che stanno al mare marito e monio guardate che faccia di imbecille che c'ha lui guardate invece lei che bella santarellina che è la giornata è finita sono a letto e lui dice hai visto mario oggi in spiaggia e lei risponde solo di sfuggita però vedete il suo che sul seno c'è una manata e cioè mario la manata lì gliel'ha tenuta per qualche ora perché lì non ha preso la bronzatura vedete quant'è imbecille lui e lui c'ha i pantaloni e lui crede che la sua mogliettina gli è fedele perché c'ha i pantaloni capito perché è un vir è un vir ecco la cosa che vignetta simpatica e questo me l'ha mandato invece un altro amico perché mi vengono informati i miei amici eh questo invece è M A F G P A M e insomma cari amici eh questi questa è la situazione ma poi l'archivio continua eh continua cari eh continua non è che vi posso far vedere tutto capito cari e vabbè ma io vi ho già fatto vedere abbastanza vi ho già fatto vedere abbastanza e beh poi c'è anche il mio video intitolato le corna c'è un mio video intitolato mio marito è un cretino un altro video è intitolato quel cornuto di mio marito e questa è la situazione cari amici non si deve tenere prigioniero nessuno capito ma andiamo infibulazione e critoridectomia e il burca la lapidazione ma dove siamo hanno fatto bene in occidente ad emanciparsi uè che sia chiaro le corna le hanno sempre fatte le donne eh anche una volta anche una volta uh quante corna che mettevano ai mariti le donne fanno bene l'ho spiegato eh le vedove quando una donna restava vedova in Micenia parlo prima che iniziasse la guerra di Troia perché la guerra di Troia inizia proprio per questo motivo quando una restava vedova e ai tempi della Micenia che era già patriarcalizzata restava vedova e dice adesso sono vedova sto in pace ma che doveva fare la serva a ai fratelli di suo marito alle mogli dei fratelli di suo marito a tutta la parentela e per cui le vedove si erano accordate e siccome sapevano che a Troia c'era il matriarcato si poteva vivere liberamente allora ogni tanto le due o tre vedove o quattro o cinque vedove si mettevano insieme mettevano a bisaccia tutte le monete d'oro del marito e dicevano alla parentela che andavano a pregare nel tempio di Giove per l'anima del povero marito defunto e poi non le vedeva più nessuno perché andavano al porto più vicino con qualche moneta d'oro prendevano a noleggio una bella barca via che andavano a Troia e che vita che facevano a Troia cari che vita è tutto scritto qua cari amici e dopo purtroppo è stata persa Troia ha perso la guerra e il patriarcato è arrivato pure là è arrivato e quando è arrivato il patriarcato là a Troia era nell'anatolia occidentale e vabbè è arrivato il patriarcato è arrivata la schiavitù femminile ma le donne allora hanno cominciato a mettere le corna ai mariti anche nell'anatolia occidentale e adesso le donne mettono le corna ai mariti in tutto il mondo e qui tutto il mondo è patriarcalizzato e vanno a ricevere lo sperma altrui e il marito se ne sta a letto tutto tranquillo d'accordo c'è vicino la mogliettina e la mogliettina invece magari qualche ora prima è andata a farsi sbattere come si deve dall'amante ecco cari amici questa è la condizione delle donne in patriarcato sono delle carcerate e fanno di tutto per avere la libertà ho fatto anche il video intitolato anche le donne arabe vogliono la patente certo che vogliono la patente le donne arabe ma gli arabi i mariti non gliela vogliono far prendere la patente capito? non vogliono che le loro donne vanno in macchina perché le donne arabe gliele mettono le corna al marito ma in una ristretta cerchia e invece con la macchina con la patente e con la macchina possono ampliare i loro orizzonti di gloria capito? va bene va bene cari amici eccolo qua il libro migliore per l'estate cari d'accordo? eccolo qua sotto l'ombrellone cari amici e fatevi una cultura patriarcal matriarcale patriarcal patriarcale cari eh va bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni